Buonasera a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Io sono Giovanni, consulente finanziario indipendente e oggi è venuto a trovarmi qui in studio il caro e buon amico Peter Lynch. Ciao Peter! No, scusate, sto scherzando. Ovviamente non è venuto a trovarmi. Peter Lynch è sicuramente un ottimo investitore al pari di Warren Buffett, Ray Dalio, insomma, Charlie Munger, eccetera, eccetera. Ma nella sua carriera ci ha lasciato questa bellissima regola che è appunto chiamata Rule of 20, cioè la regola del 20. Cosa dice questa regola? Chiaramente è creata appunto da Peter Lynch, è un metodo di valutazione del mercato azionario americano. Il mercato azionario americano per noi italiani è molto molto importante perché semplicemente, banalmente, andando a investire sul mercato azionario globale, sappiamo che all'interno del paniere di riferimento abbiamo tra un 50 e un 65% di America, a seconda del periodo storico, eccetera, eccetera. Comunque il mercato azionario americano, in particolare l'S&P 500, va a impattare in maniera molto pesante all'interno dell'azionario globale che solitamente è quello che usano gli investitori e soprattutto chi investe in ETF all'interno proprio del proprio portafoglio. Quindi imparare un nuovo metodo di valutazione che appunto ci ha dato in eredità il caro e buon vecchio Peter Lynch è sicuramente molto molto interessante. Quindi cosa dice questa regola del 20? Praticamente dice questo, è una regola molto semplice. Se noi prendiamo il PE ratio dell'S&P 500, trailing, ok, e lo andiamo a sommare all'inflazione americana, la somma dovrebbe fare 20, ok? Quindi a livello storico appunto lui ha capito che andando a sommare in qualche modo la valutazione dell'azionario rispetto ai propri utili e rispetto all'inflazione, quindi la combinazione di queste tre grandezze che interagiscono tra di loro, si riesce a capire se il mercato azionario americano è expensive e quindi prossimo a una bolla speculativa, oppure è cheap, quindi è a sconto e quindi dobbiamo comprare l'azionario praticamente, ok? Detta in poche parole così funziona. Vediamo che a livello storico chiaramente molto spesso siamo a cavallo del 20, ok? Come potete vedere però ci sono dei momenti in cui stiamo attorno al 15 e quindi qui veramente bisogna andare a mani basse sull'azionario, se il profilo di disco ce lo permette e soprattutto se abbiamo l'orizzonte temporale per poterlo fare, ok? Che sia chiaro. Oppure dobbiamo stare distanti dall'azionario in termini non assoluti ma in termini relativi perché appunto è expensive, come possiamo vedere qui negli anni 70, negli anni 2000, che guarda caso c'è stata la bolla appunto dot com, e anche nel 2021-2022 che ultimamente anche nel 2023 è sceso, quindi ha raggiunto un livello di 25 che comunque è migliore rispetto ai livelli di 35 passa che aveva raggiunto in passato, ma comunque vediamo che è sempre nella zona expensive, ok? Questa regola del 20 che è molto molto carina, molto interessante, io di solito l'affianco sempre a quest'altra regola che è appunto l'equity risk premium, che ugualmente alla regola del 20 è un metodo di valutazione relativo del prezzo dell'azionario rispetto all'obbligazionario, ok? Perché? Perché l'equity risk premium tiene in considerazione il rendimento potenziale che ci può dare un mercato azionario rispetto al rendimento delle obbligazioni americane. Invece la regola di Peter Lynch mette in relazione il prezzo dell'azionario con l'inflazione. Allora siccome noi sappiamo che l'inflazione in realtà e i tassi di interesse si spostano molto bene, no? Perché infatti quando aumenta l'inflazione le banche centrali aumentano i tassi di interesse e viceversa, questi due sono proprio due modi molto carini per andare a capire insieme, quindi magari si guarda uno, poi si guarda l'altro e si mettono in relazione tra i due, per capire appunto dove stiamo andando, ok? Io ho fatto anche la mia tabellina per farvi vedere che a livello di regola del 20, l'S&P 500 in questo momento è a 26,8 e come abbiamo appena detto è in una zona expensive, quindi un mercato azionario abbastanza caro, magari ecco non è proprio in bolla, però diciamo che è molto molto expensive, ok? Invece per quanto riguarda l'S&P 500 sempre però riguardo al premio a rischio siamo a un 0,4 che anche in questo caso come possiamo vedere è una valutazione che non si vedeva da 20 anni più o meno, ok? E sicuramente è molto più bassa rispetto alla media storica appunto degli ultimi 20 anni che è attorno al 2, 2,5%, ok? Quindi anche questo ci dice che il mercato azionario è molto caro, ma attenzione però io ho voluto farvi vedere proprio in maniera molto semplice la differenza fra per esempio l'S&P 500 e l'S&P 500 Equal Weight. L'S&P 500 Equal Weight a differenza di quello normale è un indice dove tutte le aziende sono capitalizzate allo stesso modo, quindi praticamente qual è la differenza tra questi due indici? Sono le magnifiche 7, magnifiche 7 che sono le 7 multinazionali più grandi d'America, vale a dire Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia e quant'altro, ok? Compagnia bella. Queste 7 aziende che sono esplose negli ultimi anni hanno portato appunto a una differenza di questo tipo. Vedete che se noi andiamo a prendere il mercato azionario americano in forma Equal Weight chiaramente sia per quanto riguarda la regola del 20 sia per quanto riguarda il premio rischio vediamo che sono molto più vicine alla media storica rispetto all'S&P 500 normale, ok? Noi prendiamo l'S&P 500 normale perché? Perché siccome le aziende migliori al mondo dovremo averle in portafoglio perché chi non vorrebbe avere in portafoglio Apple piuttosto che Google piuttosto che Microsoft per esempio chiaramente queste aziende siccome sono fantastiche, no? Sono appunto le magnifiche 7 dovranno ricoprire un ruolo un pochettino più importante all'interno di un paniere, ok? Di un paniere azionario. Cioè io non posso pretendere che Google che tra l'altro è il detentore di YouTube, no? Dove siamo in questo momento, che è fantastico come servizio non posso pretendere che abbia lo stesso peso di Coca-Cola che per carità è una buonissima bevanda però non è che ci dà un grande valore nella vita né a livello di percezione ma neanche a livello aziendale, a livello di utili cioè sono due cose completamente diverse quindi è chiaro che bisogna andare a prendere sempre l'S&P 500, ok? Quindi questa è una prima differenza appunto tra le due quindi se noi andiamo a prendere proprio l'S&P 500, ok? Andiamo a fare anche una cosina del genere lo mettiamo sullo schermo, ok? Sul grafico e andiamo a vedere come la regola di Peter Lynch sia fantastica Rule of 20 è fantastica perché vediamo che funziona in maniera ciclica intanto quindi parte da una fase cheap e va verso una fase expensive, ok? Ci rimane per un po', poi torna giù verso una fase cheap passando per il 20 poi torna su in una fase, in un nuovo ciclo rialzista verso la fase expensive qui magari si crea una bolla come appunto gli anni 2000 scoppia e poi va giù in questo caso nel 2008, appunto 2009 verso una fase cheap poi di nuovo riparte quello che è successo appunto negli ultimi 15-16 anni si va verso una fase di valutazione expensive, ok? è una cosa molto ciclica quindi se noi andiamo a vedere gli anni 70 e gli anni 2000 quindi a cavallo degli anni 70 e degli anni 2000 e li andiamo a mettere su un grafico cos'è che succede? Si vanno a creare i cosiddetti famosissimi decenni perduti, ok? Che sono appunto detti così proprio perché il mercato vedete che traballa praticamente però non va da nessuna parte chiaramente questo piccolo traballare voi lo vedete in maniera molto piccola però sappiate che queste discese sono del 50% addirittura qui del 55% insomma quindi non è per stomaci deboli, ok? Adesso siccome questa regola ci direbbe che siamo appunto attorno al 25 e vedete che in qualche modo abbiamo raggiunto un massimo e stiamo andando verso una fase di normalità quindi potenzialmente potremo essere di fronte all'ennesimo ciclo ribassista che va dalla fase expensive alla fase cheap noi possiamo dire almeno questo ci dice Peter Lynch potremo essere di fronte a un mercato neutrale e quindi laterale e quindi a un decennio perduto tra l'altro nel 2020 nel 2022 sono già stati anni abbastanza negativi quindi se è vero che tutti i dati convergono verso questa teoria beh anche a livello di prezzi nonostante adesso siamo ritornati al massimo però potremo vedere una fase magari di lateralità nei prossimi anni però effettivamente tanti mal di pancia e pochi rendimenti questo è un po' il succo del discorso ora cosa ci serve tutto questo? se noi siamo investitori comunque di medio e lungo termine e lo sappiamo che dobbiamo avere un po' di azionari in portafoglio non possiamo far finta di che il caso non sia nostro alla luce di tutto questo dovremo cercare di trovare il nostro equilibrio personale tra rischio e rendimento utilizzando anche appunto portafogli diversificati che vadano a impattare positivamente nel caso in cui si presentasse appunto un decennio perduto per esempio vi faccio giusto un esempio che non vuole essere esaustivo ma è giusto per farvi capire negli anni nei decenni perduti vedete quindi anni 70 anni 2000 e potenzialmente anche adesso negli anni 20 vedete che l'oro che è un asset class definita appunto da molti anzi da tutti direi bene rifugio per eccellenza vedete che proprio negli anni 70 negli anni 2000 e anche adesso un pochettino che è praticamente tornato al massimo vedete che funzionate sempre come bene rifugio e è letteralmente esploso durante i decenni perduti ok? stessa cosa vale per le obbligazioni ovviamente che proteggono diciamo da una crisi dell'azionario quindi è vero che le magnifiche 7 stanno spingendo è vero che siamo in una fase expensive è vero che bisogna stare molto attenti con l'azionario però è anche vero che noi investitori ripeto di medio-lungo periodo dobbiamo anche dobbiamo anche stare tranquilli nel senso che se noi abbiamo il nostro bel portafoglio diversificato abbiamo la giusta quota parte di liquidità abbiamo la giusta quota parte di azioni la giusta parte di obbligazioni la giusta parte di oro la giusta parte di tutto quello che vuole di cripto piuttosto che di immobili eccetera eccetera dobbiamo dormire sonni tranquilli questo è il messaggio che voglio farvi passare in questo video ok concludo con farvi vedere una piccola scoperta che ho fatto proprio in questi giorni in questo sito che si chiama World P-Ratio potete andare a vedere proprio a livello di P-Ratio le valutazioni rispetto alle medie storiche di principali azionari globali vedete che gli Stati Uniti si ha 5 anni 10 e 20 sono in una fase expensive che è esattamente quello che abbiamo appena detto finora no una fase expensive vediamo invece come per esempio la locomotiva d'Europa che è qui da qualche parte Germania eccola qui la Germania è in una fase neutrale ok vedete vuol dire che soprattutto per chi investe con l'azionario globale avrà un S&P 500 molto caro molto expensive invece tanti altri azionari che è proprio per quello che vi dicevo che bisogna bisogna dormire sogni tranquilli nel momento in cui si va a diversificare il portafoglio perché ci sono azionari appunto che sono neutrali o addirittura volevo farvi vedere l'Italia eccola qui addirittura siamo in una fase cheap quindi in una fase a basso prezzo anche la Cina vedete la Cina che ricopre mi sembra il 5% dell'azionario globale più o meno il 4-5% è in una fase cheap ok quindi per carità dormite sorni tranquilli non pensate alle magnifiche 7 o ad altre cose o bolle speculative incredibili sull'azionario perché anche se fossimo di fronte a questa tipologia di situazione il nostro portafoglio è costruito per essere robusto resiliente chiaramente se voi siete preoccupati della vostra situazione finanziaria potete sempre contattare il nostro studio e insieme andremo a capire qual è il portafoglio robusto resiliente che vi fa dormire bene la notte e che vi può portare rendimenti in qualsiasi condizione di mercato nonostante anche un potenziale decennio perduto bene io per oggi mi fermo qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della regola del 20 cosa ne pensate di Peter Lynch e cosa ne pensate dell'eventuale decennio perduto sull'azionario iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un bel mi piace se questi contenuti vi hanno dato un valore vi hanno aiutato a capire meglio la situazione attuale sulle borse globali noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao